Come aumentare così gli FPS su Fortnite nella nuova stagione? Ovviamente realizo sempre guide come queste sia per i nuovi utenti che cercano su YouTube come aumentare gli FPS su Fortnite e grazie ad alcuni metodi che riesco così a utilizzare e aumentare sempre ma sempre di più gli FPS sul gioco. E' possibile farlo con 4 metodi in questo caso in questa nuova stagione ti mostrerò come aumentare gli FPS e ridurre il lag. Quindi andiamo un attimo sulla cartella app data dobbiamo trovare così la cartella di Fortnite quindi andiamo su esegui scrivi qua sopra esegui per cento app data per cento e fai ok. Una volta fatto vai su app data vai su local scendi fino a giù fino a trovare così Fortnite game ed eccolo qua save config windows client scendi fino a giù fino a trovare il game user settings scendi fino a giù fino a trovare scalability groups texture quality 0 Su questo qua su questo parametro qua inserisci 1 succede in qualità metti 1 landscape qualità metti 1 Resolution quality la qualità della risoluzione mettila su 55% Distanza di visuale di qualità metti 0 e anti-ales in qualità da 3 metti 1 Una volta impostato qua fai file e fai salva. Queste qua sono tutte le impostazioni che trovi direttamente nel gioco e che si possono anche modificare in questo documento di game user settings Come puoi vedere le ombre possiamo anche modificare così la configurazione sullo schermo e altre cose Una volta fatto chiudiamo un attimo il documento andiamo direttamente sul pannello di controllo di Nvidia per quelli che hanno una scheda grafica Nvidia in descrizione ti ho lasciato il pannello di controllo Nvidia Quindi in questo caso vai a scrivere direttamente invidia controllo panel se no te l'ho lasciato in descrizione e poi scaricarlo ovviamente tutti questi metodi funzionano perfettamente su fortnite quindi facciamo veramente tantissime modifiche quindi su impostazioni programma facciamo così aggiungi come puoi vedere ho già inserito l'applicazione di fortnite quindi devi andare su sfoglie Vai direttamente nella cartella di fortnite quindi vai su fortnite, fortnite game, binaris, w64 e una volta fatto inserisci il fortnite launcher.exe e fai apri E ora non ci resta che eseguire delle modifiche Tecnologia monitor se il tuo monitor supporta la compatibilità G-Sync inserisci i G-Sync la più elevata disponibile sulla velocità di aggiornamento Sincronizzazione verticale non dobbiamo bloccare gli fps quindi tienilo su disattivato Modalità bassa latenza metti ultra, frequenza fotogrammi massi metti disattivata qui invece su fotogrammi pre renderizzati metti uno Il filtro struttura ovviamente non ci interessa la qualità su fortnite ma ci interessano di più le prestazioni quindi più prestazioni ci sono più aumentano i fotogrammi al secondo Prestazioni elevate NVIDIA ci consiglia la qualità però io metto prestazioni elevate Ottimizzazione trilineare metti disattivato Ottimizzazione campione metti disattivato E sono d'accordo con NVIDIA Filtro anisotropico inserisci quindi mettilo su 2x Filtro struttura metti consenti Sale un po' più su metti ridimensionamento immagine Metti disattivato e fai ok Una volta fatto fai applica E puoi chiudere così il pannello Ora passiamo direttamente all'altra applicazione che ti ho lasciato in descrizione sempre di NVIDIA che si chiama NVIDIA App Ed eccola qua Vai direttamente su NVIDIA App quindi scarichi la versione beta La installi, ti fai anche un account NVIDIA se lo utilizzi già fai accedi Vai su grafica E andiamo su fortnet Ovviamente su fortnet ho già ottimizzato tutte le impostazioni Basta che clicco qua sopra ottimizza oppure ripristina Questo pallino verde l'ho messo su prestazioni per aumentare sembrati più di FPS Se non bastasse c'è un altro programma Ovviamente consiglio sempre questo programma Per i nuovi utenti che non conoscono questo programma che si chiama NVIDIA Profile Inspector Che ti ho lasciato in descrizione Questo qua ti permette di ridurre la grafica sul gioco Quindi riduce proprio la texture aumentando di FPS Io sono arrivato fino ad un massimo di 270 FPS con una 1660 Super Quindi estraggo così il pacchetto RAR e faccio estrare i file in NVIDIA Profile Inspector Prendo la cartella, entro nella cartella, prendo il programma ed eccolo qua Se hai problemi con il link entri nel server disco e ti mando il pacchetto Qua sopra vai a scrivere Fortnite Scendi fino a giù fino a trovare l'anti-lasing Transparence Multisampling Questo qua metti disabilitato Ora su questo qua Transparence Super Sampling Ci vai a mettere la versione 0x per questo qua Tutti 0 fino a 20 ed eccolo qua Su quest'altro invece Tienilo su 0q Su texture filtering Tienilo su Più 2.7500 Stessa cosa anche su questo Basta E fai applica Se non ti piace Puoi cliccare qua sopra E ripristina E continuare con le vecchie impostazioni Quindi in questo caso con i vecchi settaggi Che abbiamo fatto con il pannello di controllo di NVIDIA NVIDIA App E la cartella Game User Settings Una volta fatto entriamo così in Epic Games Vai nella libreria Vai su tre puntini dove sta Fortnite Opzioni E rimuovi così E rimuovi così Lasciate DirectX 12 Perché questo qua è anche un problema Di un calo di FPS Quindi tu migliori la qualità Ma non aumenti gli FPS Questo invece Falo rimanere attivo La prescarica delle risorse trasmesse Da quello che vedo è aumentato anche E tienilo attivo E fai applica Per altri problemi ancora puoi commentare sotto al video Queste erano le migliori impostazioni grafiche da applicare su Fortnite Quindi grazie a tutti per questa visione E noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo tutorial Ciao